Francesco, il Belgio alla lunga è caduto contro Panama, avevate iniziato bene e poi è successo qualcosa, cosa è successo? Eh sì, ci siamo sconcentrati, è stato comunque un primo tempo ottimo nostro, penso che siamo stati superiori, però poi loro appunto alla lunga ci hanno battuto meritatamente, vi devo fare i complimenti a loro perché alla lunga se la sono meritata loro. Avete pagato forse un po' meno di esperienza rispetto agli avversari che sembravano un po' più grandi dei tuoi compagni? Sì, noi abbiamo una vita che giochiamo insieme, però comunque questo è il nostro secondo, il nostro terzo torneo insieme, loro si vede comunque che giocavano insieme, poi hanno anche un ottimo portiere e hanno vinto anche per questo perché ha fatto veramente delle grandi parate. Un voto al vostro torneo? Il nostro torneo noi abbiamo chiuso la fase a gironi, primi, però poi appunto qui in semifinale non ce l'abbiamo fatta, pazienza, sarà per il prossimo anno, sarà per l'invernale, pazienza.